Una a due giorni in Abruzzo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, vissuti tra incontri politici e riconoscimenti. Questa mattina Orlando era annerito di Cronialeto, non solo per ritirare il premio della Castagna d'Oro che gli è stato conferito dal Sindaco Giuseppe D'Alonso, ma soprattutto per incontrare i sindaci delle aree interne e il Commissario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini. Spero che sia un modo di riportare l'attenzione su aree che sono essenziali per la tenuta del Paese perché offrono servizi, costruiscono condizioni di vivibilità per anche le città. Pensiamo alle risorse idriche, pensiamo all'energia che si produce anche in aree come quelle montane e che purtroppo non sempre sono al centro dell'attenzione della politica, hanno visto una riduzione dei servizi, processi di spopolamento. Quindi credo che sia assolutamente incomiabile lo scopo di riportare l'attenzione e naturalmente per me è anche un onore e anche un'occasione per formulare un ringraziamento. Parliamo di lavoro. In Abruzzo ci sono alcuni casi pericolosi, incancreniti, ci sono altri che invece sono in via di risoluzione. Ci sono speranze? Sì, per quelli in via di risoluzione evidentemente sì. Per quelli incancreniti bisognerà seguirli. Abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa a Vasto dove abbiamo affrontato la dinamica delle diverse crisi industriali. Mi pare che ci siano le condizioni, in gran parte di queste, per dare una risposta. Poi oggi stiamo anche discutendo di come costruire ammortizzatori sociali che accompagnano i processi di transizione, che segneranno tutte le filiere più rilevanti del nostro Paese. Centrodestra, candidato Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. A lei che ne pensa? È che ognuno candida a chi crede. Ognuno poi vota a chi ritiene. Non c'è trattativa su questa cosa? Beh, credo insomma che sarebbe abbastanza stravagante.